I capelli fanno di testa loro? Ecco Frutti's di Garnier, il primo shampoo fortificante al concentrato attivo di frutti. È dimostrato. Il concentrato di vitamine e acidi di frutti rende i capelli due volte più forti, veramente più brillanti. I capelli brillano con tutta la loro forza. Shampoo fortificante Frutti's, garantito da Bortoir Garnier.